Sì, è verità. Guardo, gli autobus non passavano. In ogni modo, accomodati. Oggi, in vista della tua prima notte, ti farò fare un tour del locale, per ambientarti. Va bene. Come puoi ben vedere, questa è la stanza principale. E lì, c'è lo stage room. La vera miniera boro. La mia miniera d'oro. Insomma, il cuore di questa azienda. Quella lì è la Zoom Arcade, giusto? Sì, sì, quella è la Zoom Arcade. Sai, ci hanno sfruttato molto negli anni. Come sai, per via del programma televisivo. Da quanti anni siete aperti? Da molti anni, caro mio. Da molti anni. Da quando tu ancora prendevi il latte. Dove si trova l'ufficio? Eccolo lì. Come vedi, questa è la tua postazione. Da qui tu, con queste ernesi che io ti fornisco, lavorerai. Quindi, questo è il tuo ufficio. Mi raccomando, lavora bene. Va bene. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Ciao, senti. Abbiamo bisogno qui. Potresti venire? Grazie mille. Grazie a tutti. 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 Oh cazzo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.